Andate avanti, anche se so che rischiate la vita, perché la mafia con i suoi deplorevoli progetti agisce anche così. Mafia, Camorra e Indrangheta sono il fenomeno di una cultura di morte da osteggiare e combattere. Esso si oppone radicalmente alla fede e al Vangelo, che sono sempre per la vita. Francesco incoraggia così magistrati e funzionari della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, accolti oggi in udienza, occasione buona per rinnovare una ferma condanna. Il denaro degli affari sporchi e dei delitti mafiosi è denaro insanguinato e produce un potere iniquo. E tutti sappiamo che il diavolo entra dalle tasche, è lì, la prima corruzione. La società ha bisogno di essere liberata da piaghe come corruzione e distorsioni. Tocca perciò anche a famiglie, scuola, comunità cristiane, realtà sportive e culturali, favorire una coscienza di moralità e legalità orientata verso modelli di vita onesti, pacifici, solidali e soprattutto, dedicati ogni sforzo al contrasto della tratta di esseri umani, i più deboli tra i deboli, chiede Francesco sollecitando anche più tutela per quanti fuggono da guerra, violenze, persecuzioni. Hanno diritto di trovare adeguata accoglienza e idonea protezione nei paesi che si definiscono civili.